un'alunna speciale così voglio ricordare lorenza alagna figlia di matteo messina denaro che mi sono ritrovata avere alunna per caso in quarto liceo scientifico qui a castelvetrano erano anni lontani nella mia carriera di docente ormai sono trascorsi davvero diversi anni quasi un decennio lei adesso è una giovane donna era già una bellissima ragazza di lei non dimenticherò mai i suoi grandi occhi neri i suoi capelli i suoi capelli neri lisci era veramente una bella bella ragazza aveva un bellissimo sorriso però un sorriso triste e poi ho capito nel corso del tempo perché questo sorriso di lorenza fosse triste proprio perché portava il cognome della madre all'inizio non avevo capito che si trattasse della figlia di matteo messina denaro l'ho scoperto dopo ho scoperto anche che in classe vi era il cugino francesco panicola a cui lei era molto legata capì che era la figlia di matteo messina denaro iniziai a mettere insieme un po i pezzi doveva essere difficile per questa ragazzina di 17 anni vivere in una cittadina come castelvetrano che in fondo è una cittadina piccola molto giudicante che ha sempre il dito puntato addosso agli altri e che mette addosso lettere scarlatte molto spesso penso che lorenza vivesse questo grande disagio questa grande sofferenza interiore perché era una ragazza che aveva diritto ad essere spensierata ad avere un'adolescenza felice come tutti gli adolescenti una adolescenza piena di sogni e invece questa adolescenza così spensierata l'è stata negata ma non per una colpa lei non ha scelto di essere la figlia di un super boss lei si è ritrovata ad essere figlia di matteo messina denaro eppure ha preso le distanze preso le distanze ha cambiato completamente vita ha cercato di riscattarsi da questa immagine e anche di allontanarsi da castelvetrano ad un certo punto lei è l'esempio che noi dobbiamo dare ai nostri giovani Grazie 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 a tutti.